Ciao a tutti. Capita spesso di discutere con gli amici delle prestazioni dei computer moderni. Siamo abituati a parlare di terabyte, gigabit, monitor con risoluzione HD o 4K. Ma la domanda è questa. Quanto sono più performanti i computer moderni rispetto al nostro Commodore 64? La risposta non è così scontata, anche perché i paragoni non sono del tutto omogenei, ma se mi passate qualche piccola imprecisione possiamo tentare di mettere a confronto alcune caratteristiche. Sul campo da gioco scendono quindi il nostro Commodore 64 e due PC moderni. Un PC portatile con processore Intel i7 e un PC fisso con processore Intel i5. Per privacy il PC fisso ha deciso di non farsi riprendere. Sono due computer con caratteristiche tecniche piuttosto standard di quelli che possiamo trovare tranquillamente in tutte le case e ben lontani dalle workstation che vengono utilizzate negli uffici dove ad esempio si fa disegno tecnico piuttosto che editing video. Innanzitutto possiamo paragonare la capacità di memoria RAM. Nel Commodore 64 la capacità di memoria era 64 KB. Il PC fisso ha installato 4 GB di RAM mentre i portatile ne ha addirittura 8. In questo caso possiamo quindi affermare che la capacità di normale PC moderno è circa 100.000 volte maggiore di quella del Commodore 64 ma in caso di workstation più performanti può tranquillamente arrivare ad un milione di volte quella del Commodore. Più difficile è confrontare dei processori così diversi. Un Intel i5 con 4 CPU e frequenza di 3 GHz, un Intel i7 con 8 CPU e frequenza fino a 4,6 GHz e un MOS 6510 con frequenza di 1 MHz. Per confrontare il CPU ho scritto un piccolo programma in Basic. Il programma è identico, sia per i Commodore 64 sia per i PC moderni. Ho utilizzato lo stesso linguaggio di programmazione perché i computer si stanno sfidando tutti sullo stesso campo da gioco. Il programma effettua ripetutamente un ciclo in cui sono presenti alcune operazioni matematiche. Ho calibrato il numero di cicli in modo che vengono eseguiti in 10 secondi e andiamo a vedere quanti cicli riescono a effettuare i computer che si stanno sfidando. Pronto? Sì. 3, 2, 1... Il Commodore 64 riesce ad effettuare 45 cicli, mentre due PC moderni effettuano circa 7 milioni di cicli in 10 secondi. Vero è che le CPU dei PC moderni non erano impegnati al 100%, sapevano di vincere facilmente e non si sono impegnati. Ma possiamo comunque affermare che la CPU di un PC moderno sia almeno 150 mila volte più performante rispetto a quella del Commodore 64. Confrontiamo ora i supporti removibili. All'epoca del Commodore 64 i supporti che si utilizzavano erano le cassette e i floppy disk. Ora si utilizzano le pendrive USB. Andiamo a vedere i risultati. Le cassette del Commodore 64 potevano contenere circa 150 KB di dati per lato da 45 minuti in modalità standard. Possiamo quindi considerare 300 KB per entrambi i lati di una cassetta. I floppy disk contenevano circa 170 KB per lato, cioè circa 340 KB in totale. Una pendrive USB 3 moderna contiene anche 128 GB e più di dati, oltre 400 mila volte in più rispetto ai supporti rimovibili del Commodore. Analizzando la velocità di trasferimento dei dati abbiamo che il dataset 1531 caricava i dati a circa 50 a 60 Byte al secondo. Il floppy disk drive 1541 arrivava a 300 Byte al secondo in modalità normale e lo stesso drive in modalità fast load arrivava anche a 5 KB al secondo. Una moderna pendrive USB 3 può trasferire dati a circa 200 MB al secondo. Anche sul trasferimento dei dati la differenza è notevole. Una pendrive moderna può trasferire dati 4 milioni di volte più velocemente rispetto a un dataset e 650 mila volte più velocemente rispetto a un floppy disk drive in modalità standard. Il Commodore 64 non aveva un hard disk ma esistevano degli hard disk che potevano essere collegati al computer. Le capacità disponibili all'inizio degli anni 80 erano circa 5-10 MB. Ad esempio il hard disk CBMD 9090 aveva una capacità di 9,6 MB e poteva essere collegato sia al Commodore 64 che al Commodore VIC-20 mediante adattatore. Attualmente esistono un hard disk con capacità di anche 12 TB ma sui PC qui presenti, quelli che stanno gareggiando contro il Commodore, abbiamo i seguenti hard disk. Sul PC fisso un SSD da 256 GB e un hard disk meccanico da 1 TB. Sul PC portatile un SSD da 256 GB. Questi hard disk hanno capacità anche 130 mila volte maggiori rispetto a quelle del Commodore. In PC più performanti le capacità possono essere anche un milione di volte superiore a quella del Commodore. Le prestazioni di trasferimento dati sono piuttosto diverse. Il PC fisso è in pole position e riesce a leggere dati a oltre 500 MB al secondo sulla SSD e 200 MB al secondo sull'hard disk meccanico. Invece il portatile è un po' più lento. Legge dati dalla SSD a soli 30 MB al secondo, ma questi numeri sono elevatissimi se paragonati alla velocità di trasferimento dati dell'hard disk del Commodore, che era di soli 1200 MB al secondo. Insomma, un hard disk moderno riesce a leggere dati anche 400 mila volte più velocemente rispetto al Commodore. Le offerte di connettività moderne arrivano facilmente a 100 MB al secondo, ma anche a 1 GB al secondo nei centri metropolitani. I modem di inizio anni 80 arrivavano a 300 Baud, mentre qualche anno dopo erano usciti anche quelli a 1200 Baud, come quello visibile in foto, il Commodore 1670. Le velocità di trasferimento dati dei modem sono molto influenzate dalla qualità della linea telefonica. Inoltre bisogna considerare che non è propriamente possibile paragonare direttamente i Baud con i bit al secondo, ma per semplicità lo farò. Insomma, oggi riusciamo a trasmettere dati a velocità 300.000 o 800.000 volte maggiori rispetto alle velocità di trasferimento dati disponibili negli anni 80. Infine, confrontiamo le schede video moderne, quelle che hanno i PC che stanno gareggiando, con il VIC-2, che poi è il chip video del Commodore 64. Entrambi i PC supportano ciascuno due monitor HD, quindi 1920x1080 pixel, a 16 milioni di colori. La scheda video del portatile ha una memoria dedicata da 2 GB. I chip video del Commodore 64, il MOSVIC-2, supporta un monitor a 320x200 pixel, 16 colori, ed è in grado di indirizzare 16 KB di memoria tra ROM e RAM. In conclusione, possiamo affermare che un computer moderno acquistato nei giorni nostri presenti delle caratteristiche e delle performance che vanno dalle 100.000 volte al milione di volte superiori a quelle del Commodore 64. Con questi esperimenti dobbiamo anche rivedere la legge di Moore. Gordon Moore era cofondatore di Intel e, negli anni 70, aveva teorizzato che le performance e le caratteristiche dei computer sarebbero raddoppiate ogni 18 mesi circa. Bene, dall'epoca del Commodore 64 sono passati circa 38 anni, quindi ci saremmo dovuti aspettare un incremento di prestazioni di circa 33 milioni di volte. In realtà, le performance dei computer sembrano raddoppiate ogni 24 mesi circa, quindi leggermente più lentamente di quanto teorizzato da Gordon Moore. E con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao da Amideo Valoroso. Grazie a tutti.